E' stata portata questa notte al pronto soccorso all'annunziata di Cosenza una ragazza 21enne romena. La ragazza è stata ferita da un colpo d'arma da fuoco al volto. L'episodio si è verificato in casa di altri romeni nel centro storico Bruzio. Nell'abitazione erano custodite armi legalmente detenute dal proprietario nel frattempo morto, mentre uno degli occupanti dell'abitazione stava impropriamente giocando con l'arma, una pistola calibro 7,65 dalla quale è il colpo. Sono stati gli stessi connazionali a portare la 21enne ferita in ospedale. Ora sul caso sta indagando la squadra mobile diretta da Gabriele Presti. Il questore ha ordinato controlli in tutta l'area, perquisizioni e l'interrogatorio di circa 10 persone.